Da domani, giovedì 7 febbraio, il trasporto merci su ferro di Tua si trasferirà a Sangritana S.p.A. L'azienda per il trasporto unico abruzzese completa così il percorso di trasferimento delle attività commerciali a Sangritana dopo l'acquisizione da parte di quest'ultima del certificato di sicurezza rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti essenziale per accedere alla rete ferroviaria e svolgere i servizi commerciali. Inoltre, sempre da domani, saranno operativi sei nuovi autobus per il trasporto passeggeri tra Sulmona, Vezzano e Pescara con il marchio Abruzzo Bus che Sangritana ha scelto per distinguere il trasporto passeggeri dalle attività commerciali. Pasquale Di Nardo, amministratore unico di Sangritana S.p.A., cosa cambia da domani per Sangritana? Da domani ereditiamo sostanzialmente tutte quelle che sono le attività a mercato precedentemente esercitate da Tua e che con un atto, con un contratto di fitto d'azienda già dal maggio scorso con un'attività che è stata succeduta nel tempo, prima l'Agenzia Viaggio e successivamente le attività del trasporto passeggeri verso Roma e verso Napoli. Oggi, con un sostanziale ultimo atto, è il trasferimento delle attività a cargo e quindi del trasporto ferroviario merci che completa il pacchetto delle attività a mercato che viene trasferito in Sangritana S.p.A. Contestualmente viene anche rinnovato, continua questa opera di rinnovamento del parco autobus e da domani ci saranno sei nuovi mezzi dotati di vari comfort, così come voluto, suggerito dagli utenti secondo una ricerca commissionata dall'Università di Teramo, che copriranno una linea per il trasporto passeggeri in questo caso. Abbiamo individuato sei di questi venti mezzi, sono alle mie spalle, che corrispondono a quelle che sono le esigenze la toaletta a bordo, la preset USB e il Wi-Fi. Sono attività ovviamente minimali che in termini di qualità possa rispondere al meglio a quelle che erano le esigenze venute fuori dall'indagine. Grazie.